macro categoria imprese categoria insurance il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione insurance leggiamo insieme la motivazione per aver fatto dell'innovazione il proprio tratto distintivo a partire dal modello di business unico nel panorama assicurativo fino al prodotto personalizzato e flessibile per aver investito sulla tecnologia con partnership strategiche mettendo al centro le reti con un ecosistema di strumenti e servizi all'avanguardia e i clienti finali attraverso un sistema di onboarding digitale efficace e sicuro il premio va a euro vita e qui come in studio lo invito a salire sul nostro palco eric statin CEO di euro vita prego benvenuto e complimenti grazie grazie questo è il vostro premio poi naturalmente lo prenderà intanto lo lasciamo qui in esposizione accanto a lei prima di tutto per chiederle un commento a caldo poi entriamo nel dettaglio della motivazione che contiene molti concetti fondamentali in questo momento anzitutto siamo molto orgogliosi di ricevere questo prestigioso premio che riconosce il lavoro che noi facciamo nell'innovazione per noi l'innovazione e il connubio tra tecnologia risorse umane e l'intenzione diciamo haiti che lavora con commerciale e di mettere insieme delle novità per il nostro distributore per i nostri clienti certo infatti abbiamo letto subito per aver fatto dell'innovazione il proprio tratto distintivo e posso chiedere ancora insomma la già un po spiegato cosa significa innovazione per voi ma innovare vuol dire fare meglio fare più o più semplice o fare tutti e due insieme se possibile beh che non guasta voglio dire ottimizzare però con dei processi ovviamente virtuosi questo è un po parliamo di progetti usciamo da una fase sicuramente molto complicata che però ci stiamo lasciando alle spalle su cosa vi state focalizzando in questa fase appunto sì la parte più visibile di innovazione e forse sulla parte del servizio diciamo a distanza per i nostri clienti tema molto importante da da sempre ma ancora più importante durante l'ultimo anno noi come euro vita siamo molti innovativi come business model noi lavoriamo con l'acquisizione cresciamo ma quello che diciamo è più visibile come innovazione la parte tecnologica l'innovazione lì non è soltanto quello della facilità abbiamo detto ma anche la sicurezza abbiamo fatto un enorme lavoro per l'onboarding in realtà i nostri clienti possono oggi usare i nostri servizi online senza neanche recarsi in banco fare nessun tipo di identificazione al di fuori del processo online e sappiamo che tutta la flessibilità accessibilità viene molto bene ma deve essere su una base di assoluta sicurezza infatti la parola sicuro compare come ultima parola nella motivazione però forse proprio perché deve rimanere più impressa efficace sicuro onboarding digitale assolutamente beh a questo punto alla luce di quello che avete fatto anche in questo periodo e sui punti su cui siete focalizzati come vedete i prossimi mesi quindi su cosa punterete i prossimi mesi noi oggi una ottima piattaforma proprio grazie all'onboarding quindi accessibile a qualsiasi cliente che da casa sua può accedere ai nostri servizi man mano si allargando la questa parte del nostra offerta dove stiamo parlando della nicchia dell'innovazione tecnologica al di là dell'innovazione che diamo nostri distributori ai nostri clienti sui prodotti sui modi di collaborazione essere un'eccellenza in questo momento è importante vero esatto e quindi il premio eccellenza dell'anno appunto non a caso ho ripetuto questa parola innovazione insuranza e l'anno prossimo tante sfide ancora anzi da questo momento in avanti fino all'anno prossimo tante sfide in più ci ci attendono voi mi pare che siate pronti anche proprio forti di questo premio e sarete monitorati dal nostro dalla nostra giuria quindi mi auguro ci sarà modo anche l'anno prossimo di poter parlare di quello che farete quindi se doveste essere riselezionati sarete dei nostri sarei molto contento va bene allora intanto complimenti naturalmente a lei al suo team può prendere il premio così lo mostriamo alla nostra telecamera al nostro pubblico euro vita ritira il premio sio il sio eric statin come detto eccellenza dell'anno innovazione insurance complimenti grazie